Sarebbe stata rintracciata in una contrada di cani cattile autorubbata a Serra di Falco. Il proprietario che aveva denunciato il furto alla locale stazione dei Carabinieri avrebbe lasciato il veicolo in sosta su pubblica via nel centro abitato di Serra di Falco per alcuni minuti. Immediate le ricerche da parte dei militari, appurando l'allontanamento del veicolo attraverso la strada provinciale 23 in direzione di Monte Doro, sarebbero stati attivati i vari comandi dei Carabinieri ed in particolare la stazione di Monte Doro, che con una pattuglia avrebbe ripercorso la provinciale in direzione opposta. Si considerava la possibilità che il veicolo potesse dirigersi verso Canicattì attraverso una delle strade interpoderali che si snodano tra i vigneti e i terreni coltivati, concentrando dunque le attività di ricerca in quella direzione. E pochi minuti dopo i Carabinieri della stazione di Monte Doro avrebbero infatti incrociato nella contrada taverna di Canicattì a ridosso del tracciato della strada statale 640 l'autovettura, che si sarebbe poi messa alla vista dell'arma in una traversa senza uscita. I due soggetti a bordo avrebbero abbandonato l'autovettura ancora in movimento per darsela fuga in direzioni opposte. Il passeggero sarebbe riuscito a far perdere le tracce lasciando a terra un passamontagna, mentre il conducente sarebbe stato rintracciato nascosto nella folta vegetazione dietro alcuni cespugli. Sottoposti a sequestro, dopo essere stati trovati nell'abitacolo del veicolo, un fucile da caccia, successivamente rivelatosi di provenienza furtiva, una pistola al giocattolo, riproduzione della beretta 92 in dotazione alle forze dell'ordine. Il giovane fermato, un 21enne residente a Canicattì, è stato tratto in arresto per i reati di furto dell'autovettura in concorso e illecita detenzione e ricettazione del fucile da caccia. Individuato poi anche l'altro giovane, un 22enne, anche il residente a Canicattì, il quale al termine degli accertamenti è stato deferito all'autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, il giovane tratto in arresto è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane è stato applicato alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Canicattì, con permanenza notturna presso la propria abitazione. Il veicolo invece è stato restituito al legittimo proprietario.